La notte per loro è così giovane. Sono tutti sotto l'effetto di Turtel. La birra senza alcol? Che tiene accesa a lungo la voglia di conoscersi, di parlare, di divertirsi. Turtel. Solo per gente sveglia. Oggi sì che posso togliermi tante voglie con Viv la Vida. Perché sono tanti prodotti. Con tutto il gusto. Ma il burro leggero ha solo il 60% di grassi. E la confettura? Il 45% di zucchero. Buona. Ma non potevano pensarci prima. Saratoga è corazza lucente. Saratoga è corazza lucente. Saratoga. Corazza lucente. Invincibile protegge. E lucida la tua auto come un diamante. Corazza lucente. Saratoga. Cibas Regal. Il più regale dei whisky. Intrighi, amori, delitti di gente che ha tanto ma che vuole sempre di più. Gente che ha un'unica grande passione. Il potere. Su Rai 2. Una grande serata di prima visione. La passione del potere. Lindsay Wagner. Anthony Hopkins. Una storia avvincente. Un grande film. La passione del potere. Venerdì 20 e 30. Rai 2. La passione del potere. 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 La passione del potere.